Parliamo un attimo di questa Santa Messa, si ricorda Gabriele Mambor, una figura che portiamo tutti nel cuore. Sì, oggi ricordiamo questo valoroso militare che è stato comandante provinciale qui a Crotone, lo ricordiamo nel secondo anniversario della sua tragica e prematura di partita. E ricordare per noi significa proprio riportare al cuore il dovere della memoria che diventa riconoscenza e gratitudine nei confronti di questo militare valoroso che si è distinto per le sue capacità professionali, ma direi soprattutto per la sua umanità, per la sua vicinanza al territorio. E' uno che avrebbe potuto dare tantissimo e che sfortunatamente abbiamo perso. Due anni dalla perdita di Gabriele Mambor, è un momento di riflessione anche per ricordarlo per quello che è stato? Sì, assolutamente sì. È una giornata che purtroppo in noi risveglia e ricorda, rammenta. Quella giornata tristissima di due anni fa è giusto ricordare perché appunto la memoria è importante, specialmente nella nostra istituzione e Gabriele ha lasciato un vuoto incolmabile per la sua umanità, per la sua professionalità. Infatti oggi tutte le autorità, le persone che sono intervenute, sono volute intervenire a titolo volontario senza neanche essere invitati formalmente, proprio perché sentono, sentivano di avere questo rapporto con Gabriele. Infatti anche i cittadini avevano un bel rapporto con lui. Sì, soprattutto. E devo dire che Gabriele non a caso celebriamo la messa in questa parrocchia, che è la parrocchia di uno dei partieri meno agiati della città, sicuramente, perché proprio lui era molto vicino alle persone, agli ultimi, le persone più deboli e qui aveva stabilito dei rapporti straordinari con le suore e con i ragazzini, con gli scout della parrocchia. Per cui abbiamo scelto di fare qui questa commemorazione proprio per rinverdire questo legame che c'è tra l'arma dei carabinieri e i cittadini. Ricordare significa ricordare al cuore quanto di uomo e di uomo abbiamo vissuto.